La partenza è stata a favore della Spal Non è stata una partita negativa dal mio punto di vista I numeri sono buoni C'è da crescere, sicuramente è una squadra che ha bisogno di crescere Perché sono tanti giocatori nuovi Il percorso è un pochino più lungo rispetto alle altre Ma già si intravede qualcosa di buono Dispiacere per l'eliminazione in Coppa Italia Adesso però c'è il grande obiettivo del Monza Con tante partite ravvicinate a partire da sabato con la Regina Certo, dispiace perché è una competizione importante la Coppa Italia Però usciamo con la Spal Che è una squadra che fino a pochi mesi fa era in Serie A Quindi abbiamo onorato fino in fondo la Coppa Italia Abbiamo fatto delle buone guardie in Coppa Italia E adesso ci concentriamo su quello che è il nostro obiettivo Cercando di sfruttare il più possibile le gare Che gli allenamenti Perché le gare sono molto ravvicinate Per cui dobbiamo essere bravi a cercare quello che chiediamo Attraverso la gara e meno attraverso gli allenamenti Però abbiamo fiducia Abbiamo tanti numeri positivi La squadra è forte Per cui vediamo positivo il futuro